Nel 2035, tra 15 anni, io la vedo un'elba più green, un'elba a misura di turista, un'elba in cui i trasporti saranno più efficienti, un'elba in cui saranno superati tutti i vari campanilismi comunali. Mi auguro che gli spostamenti anche tra comuni potranno essere organizzati tramite navette elettriche, con una mobilità un po' più sostenibile. L'acqua dell'elba è sempre stata molto sensibile alle varie tematiche del territorio, ha sempre, da tantissimi anni, aiuto al territorio con tantissime iniziative. Questa è un'altra iniziativa rodevole in cui l'acqua dell'elba si mette a disposizione dell'elba e del territorio per sensibilizzare su una tematica così forte, così importante per il futuro dell'elba.